Buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 in direzione Firenze per traffico intenso, 3 km di coda tra Firenze Ovest e Firenze Peritola, code a tratti tra Prato Ovest e il Bivio per la 1. In A1 in direzione Roma rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla FIPILI per traffico intenso, code a tratti tra Scandici e Firenze Scandici in direzione Firenze. E code in uscita a Pisa Nord-Est. Sulla statale Trebbis Tiberina per lavori all'altezza dello svincolo di Sansepolcro Sud, scambio di carreggiata e chiusura dello svincolo in entrata e uscita in direzione Roma. La viabilità cittadina a Firenze in via Altamura per lavori di vietro di transito nel tratto tra via dei Sabatelli e via Modigliani. Poversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!